Le esondazioni di 14 fiumi Migliaia di persone sono senza acqua potabile e senza porra Immersi in un lago Situazione della fattoria è questa, le galline non sappiamo dove sono 21 corsi d'acqua esondati, 250 frane in 48 comuni Ci avviciniamo alle zone più colpite Stanze chimiche, rifiuti agricoli e industriali E l'emergenza potrebbe diventare anche igienico-sanitaria La vaccinazione antitetanica Quarto giorno di alluvione, ancora allerta rossa, è tornata la piazza Partiamo subito da questo presupposto Il pomeriggio prima, o meglio, lo stesso pomeriggio del giorno in cui è successo In realtà era tutto ok Pioveva forte Ma nessuno poteva pensare che la situazione si sviluppasse in quello che poi si è sviluppato Nel senso che il fiume ha invaso il centro del paese a tutti gli effetti La sensazione più terrificante è stata la notte, nel senso che al crescere dell'allarme Ovviamente è stata un'escalation, tutto è andato in escalation Quindi il fatto che a un certo punto andasse via la corrente Ci trovassimo in una condizione di isolamento totale Tutto il quartiere e anche tutta la città, buona parte della città Quella roba, insomma, è una roba che poi, quando succede, durante la notte cresce, cresce Con quella tensione, infatti, come penso, tutti quelli anche, diciamo, a cui è andata un po' meglio Notte in bianco, aspettando di vedere arrivare l'acqua Aspettando di vedertela arrivare in faccia, molto semplicemente Non sono sempre stato a Faenza, sono di origine romagnola, ma vivo a Faenza da tre anni E mi sono trovato, anch'io, come tutti gli altri, in una situazione drammatica È un territorio che ultimamente è spesso, come un po' tutto l'Italia, richiamato da allerte meteo continui Questo continuo richiamare allerte meteo inevitabilmente fa calare un po' l'attenzione Di quando puoi, no? È un po' Pierino, Pierino e Crigri dal lupo E poi, oggettivamente, anch'io non gli avevo dato troppissimo peso Mi aspettavo, magari, qualcosa di eccezionale, ma non avevo mai immaginato un evento di questa dimensione Quello che ho percepito è stato lo sgomento totale, da parte di tutti e la paura Si è arrivati a un'altezza di quasi tre, quattro metri, cinque metri in alcuni punti E lì io sono adesso conto che la cosa era veramente seria Mi sembrava veramente un film dell'orrore Cioè l'acqua che prima era a cinque, sei metri ce l'hiamo trovata nei piedi Mi chiamo Alex Raffoni, sono un ingegnere Mi occupo di impianti prevalentemente legati all'efficientamento energetico Quindi tutto quello che è il mondo, impianti, costruzioni e quant'altro E sono abituato a coordinare persone, quello che faccio tutti i giorni La vita viene accatastata fuori dalle case delle persone Cioè questo è quello che succede I propri strumenti per magari la propria professione O le foto, o i mobili, o i vestiti Tutta una vita Vedo tante persone che hanno perso tutto Ma che non ho visto scene di dispersione Onestamente mi sarei aspettato scene di gente con le mani nei capelli Non ho visto scene di disperazione Ho visto scene di gente che quando si è arrabbiata È perché magari ancora le forze dell'ordine Anche giustamente non li facevano accedere a caccia Che avevano voglia di andare a capire cosa era successo E di mettersi al lavoro per risolvere il problema La reazione è stata subito immediata Di rimboccarsi le maniche E di stamparsi immediatamente un sorriso in faccia Tirato in molti casi Però è una questione sociale di queste zone Nel senso che queste zone reagiscono così I ricordo che io ero con Flavio Flavio è stato fuori Intentato di contenere il water Io ero tutto il tempo guardando E c'è qualcosa di me che è che non si entra in panico La prima cosa è di vincere E cercare di fare le maniche Come si è Maria I'm from Colombia. I've been in Italy for about six months and with the time we decided to do another project and we took this hotel, a classic hotel, to convert it in a cycling hotel. And I said to the boys we need to take the chairs, we need to take the tables when the water started coming in and when I saw suddenly everything started coming with no control, I told the boys stop here, let's go to the lunch area because we have things that if they get wet they're going to. I think when it started to hit home a little bit was when the water outside started to come over onto the roads and onto the stairs outside and over the wall, then you start seeing me putting the sandbags out and it's going over the sandbags and you can start seeing it probably 10-15 centimetres outside the door, you're still hoping you're going to be fine and then it starts to come in and once it started to come in it came in so quickly so we all run downstairs carrying tables and chairs. and sofas all upstairs just, I don't think I've ever seen five, six, seven people move so quickly trying to move everything up. You wake up the next morning and obviously it stopped flooding but you stand outside on the balcony and you can just see everything's just completely covered. Some proper heavy waste that have just been completely swept across the floor to the other side and you're going, it just showed how quickly it came in. The next day was a very shocking, we decided to stay in the hotel, we had an opportunity to leave and you see everything quiet because if this town is quiet, that day was completely quiet in the morning. And then you start seeing someone just making a noise and moving stuff and then you start seeing more people, it's like a chain and someone else and then someone come and then someone come another one. Everyone just appeared from everywhere and shovels and just trying to help everyone as much as possible. I don't think I've ever seen from me at least something where an entire community has come together post an event and it doesn't matter who you were, I may have not seen you in my life before but I'm still going to try and help you out. Non ti nego, ci sono dei momenti in cui sono una persona abbastanza razionale, abbastanza lucida, però mi dovevo fermare perché non mi era pianta, cioè renderti conto di come gente lontano si organizza e ti fa arrivare giù materiale, attrazzatura, solidarietà, soldi, persone, è inspiegabile, è stata veramente, mi viene ancora la pelle d'oca. Quando you start seeing someone or you have someone that says we can do it, let's do this, let's start cleaning and then the boys coming down and say oh how can I help, how can I help and you start moving this, it's like a shock of energy. Non ti nego che nelle prime ore c'era il problema di avere più gente che richiesti, c'erano più persone disposte ad aiutare che case che in quel momento si poteva andare a pulire perché magari c'era ancora l'acqua. È commovente, credetemi, sono stati dei momenti veramente molto molto forti, cioè rendersi conto di come ragazzi, che adesso va tanto di moda dire che ragazzi non vogliono fare niente, sono quelli che sono lì a sporcarsi le mani, sono veramente quelli che sono lì a sporcarsi le mani. In questo gruppo che abbiamo organizzato, che adesso abbiamo chiamato Romagna, ti aiutiamo, coltiamo in evidenza, quello che stiamo facendo non è altro che coordinarli e dargli le attrezzature. Abbiamo subito creato dei gruppi tematici, quindi abbiamo il gruppo degli elettricisti, il gruppo degli idraulici, in modo tale che ognuno di loro, quando si trovava davanti alla situazione di potenziale pericolo che gli avevamo segnalato, era tenuto a chiamare la persona esperta. Quello che realmente serve, che adesso finalmente è iniziato ad arrivare, sono tutti i prodotti per la pulizia, quindi da pulire, spazzare, i gruppi pulitrici, i gruppi elettrogeni, in quanto nelle prime ore ovviamente voleva dire andare a pulire con i gruppi pulitrici senza necessariamente avere utilizzo della corrente elettrica, canne dell'acqua, quindi bombe dell'acqua per poter lavare, stivali, cioè due giorni in cui ovviamente non si trovava più un paio di stivali. La Romagna è un paese sempre stato accogliente, caloroso e amorevole. C'è un qualcosa dentro, è proprio amore, amore per le persone, per la terra, per il nostro mare, per la nostra pineta. Penso che ci riteniamo fondamentalmente fortunati a essere nati e a vivere in un paese così bello e forse rende belle le persone. Mi chiamo Sabrina, ho 52 anni, sono nata a Cervia, faccio parte di varie associazioni, tutte rivolte alla beneficenza e ho sempre amato aiutare, penso mi dà piacere, è una cosa che mi dà gioia. Nel momento duro, le persone iniziano a rivolgere, e per me, per esempio, è stato molto importante, è stato molto importante dire alle persone che possiamo farlo. Ci si vuole bene, insomma, anche ci si aiuta senza che uno chieda niente o senza che debba fare, come posso dire, della pubblicità o delle... è bello. C'è una storia, una piccola storia che voglio raccontare ora, perché è davvero bello, due ragazze, erano ragazze. C'è una persona che era 20 anni e l'altra persona che aveva 8 anni. E lei va a Flavio e diceva, hey, voglio aiutare. E Flavio diceva, chi sei? Non lo so. E lei diceva, sì, sì, non lo so, ma siamo qui. E' sicuramente una cosa che è un rilievo. E' un rilievo nel senso che non sei solo. È un'area enorme che ha interessato. Si parte dalle montagne fino a praticamente al mare. E quindi obiettivamente abbiamo trovato tante persone in difficoltà, tanti animali in difficoltà. Abbiamo identificato una prima fase di soccorso. Lì l'obiettivo è, non ci frega di nient'altro, si va a soccorrere chi è in difficoltà. Eravamo dotati di quattro squadre sia a motore che a remi per andare nelle zone in cui l'acqua si alternava al fango. E poi c'è una fase 1 che è quella della pulizia. Quindi l'acqua si è ritratta. Vuol dire andare con idropulitrici, canna dell'acqua, disinfettanti, prodotti per la pulizia, pale, cariole. Dobbiamo togliere quello che purtroppo la natura ci ha portato dentro. La fase 2 ha iniziato a diventare quello che è i ripristini di base. Quindi dobbiamo ripristinare l'impianto elettrico, dobbiamo ripristinare l'impianto di riscaldamento, la caldaia non ti parte, andiamo a disinfettare ulteriormente le superfici. E poi c'è l'ultima fase che è la fase 3 che è della ricostruzione. Quindi stiamo parlando di gente che ha perso le redi, ha perso gli elettrodomestici, ha perso le automobili, ha perso tutto. Nei primi giorni piangeva il cuore vedere che la gente buttava via tutti gli elettrodomestici. Quelli che sono frigor, freezer, lavastoviglie e lavatrici di vecchia generazione si possono recuperare. È un fenomeno, se non erro, che ha un tasso di ripetibilità ogni 100 anni, quindi ci dà l'ordine e l'idea di qual è la sua entità. È ovvio che si ragiona sempre col seno di cuore. In realtà la nostra zona è una zona che è sempre stata oggetto storicamente nel passato di fenomeni alluminari. Determinate opere, come alcuni fiumi realizzate dai famosi scariolanti qui in Romagna, sono state opere che hanno permesso di proteggersi da questi continui fenomeni. Tutta questa situazione ha fatto vedere un po' come sono le persone nel momento del vero bisogno, perché non era mai successa una cosa del genere qui da noi. Ci aspettavamo, ci avevamo avvisato, ci aspettavamo una cosa grande, ma non a livelli così disastrosi. La domanda vera è dove andremo, perché non basta naturalmente un certo tipo di spirito. Ci vuole poi una formula di organizzazione o di riorganizzazione della società che poi segue anche il buonsenso rispetto a un accadimento di questo tipo. Sicuramente è un fenomeno che porterà un ragionamento un po' più approfondito sull'utilizzo del suolo, magari sull'utilizzo di quelle che vengono chiamate casse di espansione, quindi quelle zone che io vado ad allagare per riuscire a contenere questi eventi eccezionali, che però a mio avviso per come leggo io la cosa non sono neanche eccezionali. Noi dobbiamo semplicemente iniziare a fare i conti con questi aspetti. Questo problema si risolve solo in maniera organizzata, sia come pensiero sia dal punto di vista pratico. In fondo al cuore una parte del cuore piange, però forza, sicuramente tornerà tutto più bello di prima. Se considero l'evento come, come posso dire, è accaduto e non ci si poteva fare niente, sarà così anche la prossima volta. Quindi dobbiamo imparare semplicemente a fare i conti con quello che è un clima che è cambiato. Il nostro patrimonio edilizio è comunque molto datato, quindi in determinati casi, da determinati eventi è anche molto difficile proteggersi, quindi non sempre è così facile riuscire. Però come lo è per l'efficientamento energetico, come lo è per l'antisismico, probabilmente anche, mi auguro che probabilmente anche in questo caso, si impari qualcosa dall'esperienza. in questo caso, in questo caso, in questo caso, in questo caso,